...dal Kosovo, un'ultima pagina di questa terribile dissoluzione della Jugoslavia che stiamo raccontando con Chico Elia e questa immagine, la prima immagine del Kosovo che vi propongo è un'icona, è un'immagine storica a cui ogni serbo è legato, è la piana di Kosovo Poglie, la piana dei Merli, quella in cui si combatté la famosa battaglia del 1389 fra l'esercito serbo e gli eserciti turchi comandati da Lhasa, no? Lhasa era il comandante serbo, non mi ricordo come si chiamava il comandante dei musulmani, è un'amnesia in questo momento. Comunque questo qua è un luogo che è un'icona nei Balcani ed è soprattutto uno dei fulcri dell'ortodossia serba, della serbitudine. E io appunto mi muovo, prima della pioggia ancora una volta, essendo basato a Sarajevo, nel 98, all'inizio del 98, ho la sensazione che queste notizie di gruppi armati che si stanno formando in Kosovo portano ad una totale instabilità della regione e era un possibile inizio di una guerriglia. Così si diceva, sta nascendo un UCK, un esercito di liberazione del Kosovo. Alcuni amici, giornalisti Sarajevo, mi ha detto, Livio, ora che prendi un pullman, te ne vai a Pristina a mettere le basi perché assisterai all'ultima pagina sanguinosa di questa dissoluzione della Jugoslavia. Io non ci volevo credere. Partì alla fine di febbraio del 98, i primi di marzo ci fu il primo grande scontro a fuoco a Drenizza, un gruppo di fuoco dell'UCK, capitanato dai fratelli Yashari che erano i fondatori dell'UCK, che comunque oltre a essere dei nazionalisti kosovaro-albanesi, erano anche dei trafficanti di armi e di droga, insomma erano comunque capi di una andrina, diremmo. Poi sono diventati degli eroi di guerra e un emblema del nazionalismo kosovaro. Però bisogna anche raccontarla tutto e capire perché la polizia serba era andata ad arrestarli quella mattina all'alba. Loro hanno risposto al fuoco e dato che avevano ucciso quattro poliziotti serbi. Poi venne circondata la loro masseria in cui c'erano 49 persone, fra cui anche tutta la famiglia, i donne, vecchi, bambini, eccetera. E iniziarono tre giorni di assedio e di mattanza tra loro che sparavano all'esterno e truppe dell'esercito jugoslavo che sparavano su quelli che erano anche i colpevoli di un agguato a poliziotti serbi. Quindi questo primo scontro a fuoco, che non ha niente di nazionalista, nasce da questo. Bisogna raccontarla tutta. Io sento di questa notizia e poi vado il giorno dopo nel riesco a raggiungere tutte le strade bloccate, c'erano posti di blocco dappertutto nell'area di 100 km. Però il mio autista, che era molto sgamato, iniziò a fare dei trattori di montagna e riuscimmo ad arrivare un po' a macchina, un po' facendo un pioniere vicino di chilometri a piedi, a questo villaggio di Likushan dove ci fu la tumulazione delle vittime, queste 49 vittime, il primo massacro comunque di gente kosovare albanese di fronte a 100.000 persone che arrivarono e che coprirono, come vedete, tutta una collina. Era pieno a perdita d'occhio di persone che rendevano omaggio ai loro primi caduti, tant'è vero che vedete per la prima volta l'esposizione su delle vittime della bandiera albanese, che in quanto loro come kosovari non avevano una bandiera e usavano proprio invece l'icona della bandiera albanese. Quindi qui siamo all'inizio dell'ultimo atto, queste sono alcune delle vittime e poi insomma immagini che si rifanno a manifestazioni, allora quindi contro questo eccidio, scontri di piazza Pristina in cui anche la polizia ci va giù pesante e la situazione inizia proprio a precipitare nel giro di pochi giorni, una sorta di stato di assedio, alle 6 del pomeriggio c'era il coprifuoco, quindi inizia subito pesantemente. E io ero l'unico fotografo occidentale a Pristina, dopo una settimana è arrivata a BBC, per cui mi sono ritrovato veramente dentro il cuore della storia così, senza averne quasi percezione, solo perché ero andato a cercare i primi contatti, a stabilire ancora una volta come avevo fatto sia a Sarajevo ma anche a Berlino, mosso comunque dall'interesse per le vicende, diceva ma sarà meglio che vado a Pristina e inizio a cercarmi una casa, un interprete, a farmi un giro, inizia a riconoscere geograficamente i villaggi degli uni, i villaggi degli altri, è un luogo spaccato in due, insomma in cui la polizia ha instaurato un forte clima di pressione sulla comunità albanese che fra l'altro erano il 97% della popolazione, quindi insomma la situazione era veramente pesante e si poteva capire che sarebbe prima o poi esplosa, però non avevo la percezione che questi gruppi armati sarebbero entrati così poi dopo in azione, nessuno lo sapeva e mi ritrovai lì al momento giusto. Studenti universitari iniziarono a percorrere le strade tutti i giorni, scontri con la polizia, insomma un casino, Drenizza che era una sorta come di cuore della lotta patriota dei kosovari albanesi a una settantina di chilometri da Pristina, un posto in mezzo alle colline in montagna, era il luogo dove avvenivano gli scontri. Pristina invece era il luogo un po' in cui la gente manifestava e c'erano anche i primi media, anche i locali che iniziavano a documentare le manifestazioni e a far capire qual era la tensione, però la situazione tra Pristina e le campagne era molto diversa, come se questi contadini armati fossero i primi ad agire contro la polizia e contro l'esercito che comandava la piazza, mentre invece in città c'era ancora paura ad agire. E queste sono le contramanifestazioni degli studenti della comunità serba, che invece dicono della loro serbitudine, che è il Kosovo, il cuore della Serbia, perché le loro origini, soprattutto la radice della loro cristianità, quindi i loro monasteri ortodossi, stanno da sempre in Kosovo, a Peccio, specialmente a Deciani, ma anche a Gracianica, vicino a Pristina. E di conseguenza inizia poi tutto a precipitare, prendendo anche questi colori religiosi, questo senso di appartenenza, quasi ad avvalorare le differenze, ma non una guerra di religione. Riesco a contrattare una di queste famiglie di primi guerriglieri dell'UCCA a Drenizza e poi a visitare dei villaggi distrutti. Sono le prime immagini che vengono distribuite in giro sui giornali in mezzo mondo, perché non c'erano testimonianze. Queste qua sono le tombe di quei 49 che sono stati uccisi il 3 di marzo e che, come vedete, le tombe senza nome. Poi vi farò vedere che cos'è diventato questo luogo, che adesso è un mausaleo che ricorda i primi eroici partigiani dell'UCCA. E poi la fuga comunque dei profughi, perché inizia subito un'emergenza profughi. Le operazioni dell'esercito jugoslavo, dell'esercito di Belgrado, iniziano a creare un tale violento impatto sulle comunità, specialmente anche quelle delle campagne, intorno a Dugagin verso Pecce, che la gente a migliaia fuggono sulle montagne. E io li raggiungo sulle montagne e faccio delle fotografie che vengono anche diffuse e usate dalle Nazioni Unite, perché nessuno aveva ancora l'idea di quanto fosse catastrofica dal punto di vista umanitario. C'erano 80.000 persone sulle montagne ai confini con il Montenegro. Senza acqua, senza cibo, disenteria, ogni tipo di malattia, perché mancava l'igiene. E poi erano da settimane lì sopra. Io li ho raggiunti con tre giorni di marcia forzata, con i guerriglieri, che mi hanno detto, ah tu non credi, vieni su sulle montagne a vedere come stanno le nostre famiglie. Cazzo, quando arrivai su c'era uno stuolo di tene, mi ricordava la fuga dei kurdi dai bombardamenti di Saddam nel 91. Cioè una situazione apocalittica del genere. Mi ricordo che il responsabile delle Nazioni Unite di Ginevra mi disse, finché non ci mandi le foto non ci crediamo. Cioè delle cose del genere. Io, piccolo fotografo, grande così, che devo dire alle Nazioni Unite, guardate che ci sono 80.000, perché non c'era ancora stata la missione delle Nazioni Unite, quindi non c'erano né aiuti né field officer che potessero vedere. Io quindi ero l'unico che girava, vedeva queste cose, la sua riscopriare di colore, poi dopo le diffondevo. E poi dopo invece raggiungo uno dei gruppi armati, qua sono proprio nel headquarter dell'UCK, la base di Asimtaci, praticamente nelle montagne di Drenizza. E qua un'offensiva invece delle divisioni corrazzate dell'esercito jugoslavo. Le stragi si susseguono, ancora una volta i civili ne fanno parte, nel maggior numero. Sono anche i soldati, logicamente l'UCK perché è una guerra partigiana in sostanza. E poi si arriva all'intervento, sarò breve perché mi piace anche sentire i commenti di Chico, e sentire anche i vostri, per cui poi si arriva all'intervento del marzo 1999. Qua sono a bordo di una porteria americana, non lontano di qui sono di fronte alla costa del Montenegro. E inizia la guerra umanitaria, quella che porta poi a colpire Pristina e il Kosovo, ma soprattutto Belgrado, e a un sacco di obiettivi militari, ma anche civili. Penso alle fabbriche di Pancevo, con tutte quelle nuvole di inquinamento e di diossina. Penso ai treni con i profughi serbi che fuggono, che vengono bombardati come obiettivi militari, agli ospedali, alle scuole, alla sede della televisione di Belgrado, che viene considerata una televisione di propaganda e quindi viene colpita con decine di giornalisti che muoiono una notte perché vengono colpiti dalle bombe degli aerei americani. Insomma, storie che forse ci ricordiamo perché sono più vicine della serie di Sarajevo e qui le catombe dei civili, le fughe dei profughi, in questo caso profughi kossovari, che fuggono al di là del confine Macedone. E qua, una foto molto famosa, anche Enzo Biagi scrisse tutto un pezzo dedicato a questa foto, ne sono molto orgoglioso, perché si rifaceva ad altri treni, quelli che portavano ad Auschwitz, però è pur vero che dopo l'inizio dei bombardamenti in Ato su Serbia e Kosovo, l'esercito jugoslavo intensificò i suoi attacchi sui civili, fece una grande operazione di rastrellamento e fu portata con i treni verso il confine Macedone, qua sono a Genova Liancovici, proprio al confine, 78 mila persone, mi sembra nel giro di tre giorni, con i treni, vengono deportati al confine Macedone. Proprio pulizia etnica in grande stile. Loro dicendo, avvalorando che era la loro risposta ai bombardamenti della Nato, che quindi il Kosovo era serbo, che dovevano deportare tutta la popolazione kosovo-albanese. E ci furono enormi stragi di civili anche in fuga, ricordo tutta la fuga verso Kukes, verso l'Albania, verso i confini con l'Albania, ma anche buona parte fuggì in Macedonia, dove io poi rimasi dentro e fuori dal Kosovo e anche in Macedonia, per un paio di mesi, raccontando appunto la vita dei profughi nei campi profughi improvvisati in Macedonia. Finché poi venne un nuovo D-Day, quando la Nato decise dopo 78 giorni di bombardamenti di iniziare l'attacco via terra, anche l'esercito italiano partecipò. Qui sono dei gurka nepalesi invece che aprono delle linee d'attacco, che poi non ci furono neanche mai scontri fra la Nato e l'esercito jugoslavo, perché dal momento che venne stabilito a Kumanovo l'accordo di cessato il fuoco, l'esercito jugoslavo si ritirò verso nord, verso Nish e vennero lasciati i civili in balia poi di questo gran casino. La Nato che entra da una parte, fuggì, fuggì generale, i serbi che fuggono verso nord perché hanno paura delle ripercussioni, eccoli qua, i serbi in fuga verso Nish. Quindi continua la fuga dei profughi serbi una volta dalla Kraina, poi dopo dal Kosovo verso la Serbia. E poi inizia il rientro invece dei kosovari al seguito delle forze della Nato, quindi ritornano alle loro case, così pure l'UCK, e questa è una foto molto simbolica, entra in armi in Drenizza, prende posizione e diventa poi, diciamo, la forza vincente, quella che al seguito della Nato vince sul terreno, l'esercito jugoslavo si ritira a nord, e loro prendono il potere prima militare e poi politico, perché ricordiamoci che il capo dell'UCK diventa il primo ministro. E poi, ecco, una cosa che mi piace ricordare, non dimenticare, è la revanche, inizia la revanche contro i serbi che sono rimasti. Qui abbiamo dei serbi di Pecce, a cui viene incendiata la casa dai primi dell'UCK che arrivano. Ah, scusate. Qui sono dentro il monastero di Pecce, dove decine di profughi interni serbi, fuggiti dalle loro case e dei loro villaggi, cercano riparo e cure presso il patriarcato di Pecce, che viene messo in sicurezza dal contingente italiano, che tuttora vigila, perché altrimenti sarebbe stato distrutto, come molte altre chiese ortodosse che sono state distrutte in questi anni. E poi ho fatto anche un bel reportage sulle conseguenze dei bombardamenti della Nato, e ciò che resta a livello di uso di uranio impomerito nelle zone bombardate, cose a cui non si è andate abbastanza in fondo, perché poi ho trovato anche un muro di gomma da parte delle autorità mediche, che non diffondono effettivamente i dati che derivano da eventuali conseguenze a livello di sanità pubblica. Forse non c'è stato ancora un serio studio epidemiologico sui tumori o le malformazioni che derivano da un terreno contaminato. E su questo ci sarebbe ancora da dire. Poi iniziano le manifestazioni dell'ultimo periodo per l'autoproclamazione dell'indipendenza del Kosovo, raggiungono il risultato, viene archiviato a Rugova perché non faceva parte diciamo dei falchi. E questo è il luogo come si presenta adesso dove erano stati tumolati le prime vittime del primo massacro dell'inizio della guerra. Così adesso si presenta un luogo pieno di tombe con delle guardie d'onore e come è diventato un po' l'icona della loro guerra di resistenza. Questo è il nuovo presidente. Asim Taci. Scusate, sto correndo un po' troppo. Questa invece è la come si chiama? La centrale di Obilich. Anche qua un sacco di milioni di euro da parte della comunità internazionale per rimettere in piedi strutture più moderne per il riscaldamento delle energie ma nulla è cambiato perché tutti i soldi sono stati imboscati dalla lobby di Asim Taci e poi ancora la dura condizione delle comunità rom. Mitrovica divisa. Qua sono ancora sul ponte di Mitrovica quindi da questa parte dalla parte in cui sono io vive la comunità kosovare albanese e dall'altra parte del ponte vedete le case dei serbo kosovari che fanno capo a Belgrado perché loro non hanno mai riconosciuto Pristina come capitale. Le loro manifestazioni per continuare a come dire a sottolineare la loro appartenenza la vita la dura vita delle comunità serbe che devono molto al rinforzo dal punto di vista della security grazie alla presenza del contingente italiano perché effettivamente altrimenti sarebbero state spazzate via da gruppi armati di ultra nazionalisti che comunque in questi anni sono ancora attivi loro continuano a vivere sempre nella paura le chiese ortodosse abbandonate perché ormai buona parte della comunità è andata verso il nord in Serbia questo treno molto simbolico non c'erano prima con Chico che collega Pristina con le varie enclave serbe e il confine serbo non lo attraversa si ferma il confine ma mette in relazione praticamente ancora gli abitanti dell'etnia serba con la Serbia passando anche attraverso i villaggi Roma ed è bello perché quando io ho fatto questo viaggio un viaggio breve 70 km a bordo di quel di quel treno tutti parlano serbo croato come se non fosse successivamente se ritornasse alla Jugoslavia di Tito cioè chi lo usa chi lo frequenta ancora per muoversi anche se è di etnia albanese quando sale specialmente quelli non della generazione diciamo più giovane ma quelli della nostra generazione diciamo fra i 30 20 e 60 anni che hanno ancora riminescenza che hanno studiato i tempi di Tito che comunque parlano serbo croato come ai tempi della questa cosa mi sembra molto originale e ti farai pensare un po' ad una terza via che sarebbe stata possibile forse vivere da Rom nel piccolo villaggio di Malabosna che forse è quello che hai visitato tu e qui sempre la comunità dei serbo ortodossi intorno al patriarcato di patch la presenza del contingente italiano è tutto quello che ci costa però credo che sia molto apprezzato al di là di tutto è molto più apprezzato di quello che ha fatto in altre regioni di guerra tra Afghanistan e Iraq con una buona parentesi anche della presenza in Libano dove fanno un bello lavoro di interdizione nel sud ai confini con Israele ed ecco come pariano queste lande desolate dove tutto è business e si costruisce nel nulla pensando di vendere poi queste queste nuove strutture ma non so mi ha colpito molto questa queste immagini di questo nuovo Kosovo pacificato e aperto al business no grandi cantieri nel centro di Pristina dove si costruiscono soprattutto centri commerciali eccetera eccetera come al solito dietro c'è la lobby al potere dietro ci sono gli ex UCK nulla si si può costruire nulla si fa nulla si distrugge senza loro placet anche la grande autostrada che collega con l'Albania tutto un loro business e dall'altra parte sempre per formularvi questa queste due velocità queste queste due immagini di un Kosovo diviso invece a Mitrovica si fanno barricate si espongono cartelli no passaran per sottolineare ancora la volontà di resistere ma questa è la nuova la nuova Pristina sulla cima di un albergo che si chiama Liberty ho scattato questa bella veduta di questa nuova Pristina con la statua di una libertà molto a rischio Veton Surroy che è un importante giornalista di Pristina pur essendo Kosovo Albanese scrive un pezzo che potete trovare sul osservatorio Balcani che proprio due giorni fa dice Kosovo la falsa normalizzazione per cui è tutto ancora da leggere da capire quello che sta succedendo e quindi ancora più importante la nostra presenza critica ma anche la nostra presenza a tutti i livelli come operatori dell'informazione operatori umanitario anche solo come puri testimoni di quello che sta accadendo al di là dell'Adriatico e poi alcune immagini di una Sarajevo che cambia è stata costruita questa nuova imponente torre al centro di Sarajevo che spunta come vedete dalle macerie che permangono intorno di case distrutte durante la guerra e questo fungo terribile è il palazzo più alto dei Balcani una torre altissima che è sede del partito di governo e del più importante giornale legato al partito quindi una sorta di Berlusconi dei Balcani che è presidente che è padrone padrone della 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 io l'ho intervistato e ha anche una foto di lui con Berlusconi è un piccolo Berlusconi Berlusconi questa è la veduta dall'alto quindi di un centro di Sarajevo per chiudere la parentesi con tutte le brutture che vi ho mostrato con la voglia comunque di non dimenticare ed è così appare ora il centro di Sarajevo anche una città moderna molto attiva anche dal punto di vista culturale una città che vale la pena di visitare anche puramente come turisti ma è diventata di nuovo una capitale molto interessante un certo revanchismo anche di nostalgici di Tito in questo Tito Bar molto alla page dove i giovani vanno e si fanno una risata pensando al passato questa qua è una foto a cui sono molto affezionato perché ho fatto per un femminile italiano la storia dei ventenni avere vent'anni oggi a Sarajevo e questa ragazza simpaticissima una bravissima ragazza che sta studiando all'università come dice lei senza grandi prospettive per il futuro però ci mostra una foto scattata durante l'assedio lei è la più piccola come vedete e mi piace anche chiudere questa questa carrellata di immagini facendo vedere i loro volti sorridenti dopo aver visto tante tristezze con un pensiero però rivolto al passato e questa è la mostra di oggi una mostra ancora aperta al turismo con questi ragazzi molto audaci che si lanciano dal nuovo Starimost nelle belle fredde acque della Neraetva progetti anche agricoli nell'area di Sebrenizza questo bel progetto Transumanza di Pace operato in collaborazione fra Rigoni Stern il figlio del grande Rigoni Stern e la Roberta Biaggiarelli un'attrice famosa per la sua performance a come Sebrenizza probabilmente l'avete vista che portano mucche dal Trentino a Sebrenizza per ripopolare le comunità agricole che erano state spazzate via durante la guerra quindi questo è un bel progetto anche mi sento di chiudere proprio pensando anche un'imprenditoria ad un bel esempio di convivenza civile e anche economica questa qua è la comunità delle donne di insieme a Bratunaz alle porte di Sebrenizza dove donne musulmane e serbe lavorano insieme lavorando questi piccoli frutti e producendo delle marmellate ottime ma che non si possono portare in Italia perché la Bosnia è fuori dall'Europa e di conseguenza non possono essere importate la COP addirittura se la detta disponibile ma le regole del mercato europeo non permettono di importare queste marmellate che darebbero anche un valore in più al loro impegno e darebbero anche una spinta economica quindi ci sono anche queste contraddizioni quando si parla di imprenditoria con l'altra parte dell'altra costa però secondo quali regole quindi questa qua è un esempio che porto perché è molto bello e simbolico ma anche pieno di perché e questo comunque è quello che resta questo è il cimitero di Vukova dato che vi ho parlato tanto di Vukova all'inizio della guerra se voi domani andate a Vukova Vukova è anche questo migliaia di croci quindi se mi ricordo un po' il cimitero di Umacabic ricorda quello dello sbarcho in Normandola e comunque insomma sono luoghi a cui sono molto molto legato luoghi in cui torno come a quel famigerato incrocio vi ricordate l'incrocio di Vukova quella croce e questo è quell'incrocio oggi ci sono tornato con Agostino Zanotti appunto per questo progetto Balcani 20 anni dopo per produrre nuove immagini per la mia mostra una mostra itinerante che ha viaggiato tantissimo in Italia in tante città e soprattutto nelle scuole dove facciamo dibattiti testimonianza vedete che l'incrocio poco è cambiato la croce è stata completamente rimossa però mostro una pagina del mio libro in cui si vede la faccia del criminale che ha fatto tutto quello quella immagine del 1991 e come si presenta quell'incrocio oggi ed ecco cioè ho iniziato con un'immagine di Tito nel fango e chiudo con questa immagine venduto al mercato delle Pucci di Belgrado in cui si testimonia ancora una volta comunque il legame con quell'uomo con quella storia con quell'icona quella sì quella jugo nostalgia che è ancora tipica di quei luoghi e per cui vi saluto e vi abbraccio con questa immagine io chiuderei a questo punto con questo diciamo cammino sull'ex Jugoslavia giusto dicendo ancora due cose la prima è che a livello di informazione ovviamente la situazione soffre delle privatizzazioni selvagge che hanno aggredito il paese quindi personaggi appunto come Radoncic sono questi businessmen a cavallo fra malaffare e politica che hanno poi preso sostanzialmente il controllo dei mezzi di informazione producendo un'informazione dall'alto molto 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 controllata da interessi per cui anche grandi realtà come è stata o Slobogene durante la guerra oggi non sono più purtroppo quel tipo di giornale però la situazione è anche più pesante di così perché vi cito due persone che conoscevo a cui siamo stati molto legati con i miei vecchi giornali uno era Dusko Jovanovic il direttore di Dan che significa il giorno un quotidiano montenegrino assassinato nel 2004 per le sue inchieste su il presidente montenegrino Milo Diucanovic che proprio nella nostra città è stato l'unico capo di stato inquisito per contrabbando processo che non l'ha mai dovuto affrontare perché protetto dall'immunità diplomatica e lo stesso Drago Hedl un grandissimo giornalista croato che fino al 2005 per i suoi articoli sui crimini di guerra commessi dai croati ha subito minacce di morte ha dovuto vivere protetto e ce ne sono tanti di persone così che rischiano pur di fare un'informazione libera che però dall'alto è molto difficile alla fine anche se in corner faccio un passo anche su i Balcani in generale quindi già come definizione i Balcani è difficile però tendenzialmente si individuano in quell'area che va appunto dal mare Adriatico a nord fino all'Ungheria e fino alla Turchia per dire che i problemi dei media non sono problemi solo Jugoslavi ovviamente che hanno una storia così pesante da portarsi appresso a parte che non sono neanche solo Balcanici perché è tutto il contemporaneo che ha grossi problemi con i mezzi di informazione però vi cito alcuni esempi in Ungheria nel dicembre del 2010 viene votata una legge da questo governo che ha due formazioni neonaziste al governo in cui sostanzialmente vengono previste multe fino a 700 mila euro per contenuti non equilibrati politicamente a decisione incontestabile del ministro dell'informazione in Bulgaria Boris Zankov anche questo un amico un giornalista radiofonico autore di un famoso libro sulla mafia bulgara che ruotava intorno alla figura dell'attuale presidente bulgaro viene assassinato nel 2007 in un attentato e così via la Turchia la Turchia nel 30 gennaio 2012 40 giornalisti vengono arrestati per aver usato tre lettere la Q la X e la Y che esistono solo nell'alfabeto kurdo e quindi per aver usato tre lettere kurde vengono arrestati e sono ancora sotto processo per vilipendio all'identità turca l'ultimo caso secondo me il più drammatico perché ci riguarda tutti molto da vicino è quello della Grecia in questo momento la tv di stato greca è occupata dai suoi giornalisti che continuano senza stipendio a farla lavorare mentre fuori c'è la polizia che è indecisa se sgomberarli o meno perché la tv di stato greca la tv pubblica greca è fallita secondo me quella è una battaglia che ci riguarda tutti perché il giorno in cui non ci sarà più un'informazione pubblica ma solo un'informazione privata io non lo vedo come un giorno positivo ma vi parlavo di ottimismo e qui chiudo perché? perché fino ad oggi l'informazione da quelle parti è stata fatta solo attraverso una sorta di tutela come se noi considerassimo delle persone incapaci di badare a loro stessi o con un meccanismo delle ONG che hanno elaborato anche tanti progetti a volte un po' forzati io durante la guerra in Kosovo c'era questa radio che trasmetteva da Pristina che era una vera radio mista ma perché era mista pure prima c'erano ragazzi che erano cresciuti assieme oggi ci sono realtà un po' più posticce per cui pur di fare un progetto di cooperazione a volte non si va davvero nel profondo dei significati ma si mettono insieme le quote etniche e questo non è pacificazione ovviamente l'altra è quella un po' di tutele come soprattutto un istituto famosissimo che è l'Open Society Institute di Soros che finanzia un certo tipo di mezzi di informazione come Transition Online per esempio che è un sistema che è in 27 paesi nato dopo la caduta del muro di Berlino e che francamente ha una visione del mondo che è una visione del mondo però è quella come dire un po' del pacchetto democratico che viene venduto senza essere capace però di analizzare le proprie contraddizioni ma come vi avevo detto volevo chiudere con una cosa positiva e vi segnalo alcune realtà la prima è proprio Sarajevo quindi chiudiamo questo lungo cammino ed è la storia di una bimba una bimba di tre anni che quindi non c'entra nulla con la guerra nel senso lei si chiama Belmina Belmina è malata e ha bisogno di un trappianto di midollo osseo il dramma della Bosnia post guerra è che le tre entità che la compongono due federate quindi croati e musulmani e i serbi del nord per il meccanismo di Dayton devono votare in tre anche per il colore di questa sedia questo crea una totale paralisi burocratica del paese centinaia di migliaia di persone aspettano ancora il codice identificativo del nascituro che significa è come se noi andassimo all'anagrafe e trovassimo chiuso e non potessimo registrare una nascita questo significa non poter andare all'estero per le cure mediche non poter accedere all'assistenza sanitaria e così via dal caso di questa Belmina è nato un vero e proprio assedio al palazzo al Parlamento di Sarajevo un assedio bellissimo che viene chiamata la rivolta dei passeggini perché tutte le mamme centinaia di migliaia di mamme da tutti i quartieri musulmani e quant'altro correvano con invitati dalle radio libere di Sarajevo ad assediare il Parlamento il simbolo è adorabile perché è un pugnetto con un ciuccio in alto ed è un movimento fantastico perché un movimento transnazionale un movimento transreligioso cioè un movimento che parte da problemi attuali da problemi del quotidiano si è dato una radio web si è dato un sito internet è un blog seguitissimo a Sarajevo è un gruppo facebook seguitissimo a Sarajevo ed è il primo movimento di lotta per i diritti lotta per la vita reale per l'oggi per il futuro che parte da uno sdoganamento delle divisioni del passato il secondo che io sostengo da anni e che abbiamo raccontato sulle pagine dei giornali per cui ho scritto è quello dei musei cosa succede? succede che quella divisione quella arraffare che ha caratterizzato tutta la guerra ovviamente riguardava anche le cose pubbliche immaginiamo che la Puglia si stacchi dal resto dell'Italia la prefettura chi se la prende c'è anche a livello pratico anche le macchine della polizia l'unica cosa che nessuno ha voluto erano i musei quindi i musei sono rimasti sospesi in un limbo giuridico per cui soprattutto quegli antichi quindi non quelli moderni che sono politicizzati che sono studiati per essere propaganda no si parla proprio del museo archeologico di Sarajevo il museo della rivoluzione che parlava del preguerra bene la cosa incredibile fantastica è che chi ci lavora è continuato ad andare avanti senza soldi senza luce io l'ultima volta che sono stato a Revoluzzie che questo museo stavano lì a far caldo bruciando i giornali pur di tenerlo aperto no? da questo è meraviglioso perché tu vedi sta gente che c'è non 200 euro non ha manco quei 200 euro da 10 anni e cosa è accaduto? è accaduto che mi raccontavano i ragazzi che lo tengono vivo dentro che è arrivata la prima telefonata dal Montenegro ragazzi che dicevano ma sai che abbiamo col museo di Podgorica anche noi lo vogliamo tenere aperto e quelli di Sarajevo e quelli di Zagabria e i primi soldi dalla Serbia e i primi soldi dal è nato questo network in rete che si chiama Non Siamo Mummie che è bellissimo e sono tutti questi collettivi di artisti che si scambiano e questo è addirittura il primo fenomeno jugoslavo di nuovo per certi versi l'altra realtà che vi volevo segnalare è proprio Amostar il ponte come ci raccontava Livio le divisioni che ci sono e sono ancora pesanti io ho scritto ora sulla qualificazione a Bosne mondiali e ho chiamato subito gli amici di Amostar per sapere se festeggiavano anche dalla parte croata e loro mi dicevano ma sì timidamente qualche clacson qualche roba alla fine anche loro Amostar questo centro si chiama Brashevich ed è un centro stupendo perché è un centro dove all'inizio trovi questo grande cartello che dice sei musulmano sei croato beh sappi che a noi non ce ne frega un bip vi evito il corso entri dentro e loro fanno una radio loro fanno cinema loro fanno teatro loro fanno sono davvero un centro in gamba e quindi mi offro come ponte fra voi e loro perché secondo me è una bella realtà la Turchia Genzi Parchi tutto quello che è successo la rivolta contro l'ennesimo quello che ci faceva vedere Livio cioè quella brutale aggressione del capitalismo del mattone che deve costruire che il boom sembra che abbia bisogno di simboli anche metaforici di potenza e di denaro questi ragazzi stanno difendendo un parchetto che è grande come Piazza Garibaldi solo che è diventato un simbolo molto più grosso di questo e loro mi raccontavano che alla fine hanno deciso di autoraccontarsi e quindi c'è questo collettivo che si chiama Video Occupy che racconta Genzi Parchi in diretta ed è fatto dai ragazzi bravi smanettoni con i computer con le telecamere con i cellulari ma poi hai questi video adorabili della signora di Genzi Parchi che si fa riprendere dal figlio e dice la sua sul parco ed è completamente fuori da tutti i circuiti del potere del potere economico del potere del controllo dell'informazione ed è anche incontrollabile per certi versi quindi diventa interessante e mentre parliamo c'è gente in piazza Sofia c'è gente in piazza Bucarest contro quella austerità che viene ormai percepita come una truffa e quindi la cosa più grave è che l'Europa ha saputo mostrare il suo volto peggiore quello burocratico quello soffocante quello dei perché un ragazzo rumeno di vent'anni non capisce per quale per quale dannato motivo oggi non gli viene promesso nessun futuro ma gli viene reso dannatamente complicato il presente perché l'Europa ha significato che soltanto sette famiglie sono proprietari del 90% del patrimonio immobiliare di Bucarest e sono cose che sono accadute dopo ovviamente la caduta del muro e quindi questo grande inganno comincia a prendere un sapore diverso io credo che la cosa migliore che si possa fare sempre è quello di creare rete nella società civile quella vera non quella che viene definita società civile perché deve piacere così non è tanto a volte il grande scrittore serve ma serve molto di più il movimento a volte dal basso quello fatto dagli studenti quello fatto da e per loro la libertà di viaggiare è una cosa enorme quindi parlavamo prima a pranzo c'è iniziative di scambio iniziative in cui i ragazzi di qua possono andare là e così via allora è stato negato per tanti anni e i ragazzi serbi i ragazzi bosnie ci sono sentiti prigionieri per anni perché non avevano un passaporto che gli permetteva di uscire e voi pensate l'assurdità c'è stato un gruppo di artisti che ha ricreato i passaporti della vecchia Jugoslavia perché perché il passaporto della vecchia Jugoslavia era l'unico con cui potevi andare di qua e di là della cortina di ferro perché comunque di là c'eri più o meno nel blocco e di qua eri ben accetto perché eri Jugoslavo quindi non eri poi così comunista e quindi dal passaporto migliore del mondo al passaporto e loro se li erano rifatti finti con il vecchio passaporto Jugoslavo e quindi per salutarci io anche ripeto loro hanno tutti i miei contatti sono a disposizione anche per creare contatti fra le persone fra i gruppi sentirsi organizzare eventi scambiarsi anche perché io sono di Bari e noi abbiamo una posizione privilegiata verso quell'area del mondo che dovremmo saper sfruttare perché magari su questi gruppi poi si costruirà mi auguro una rete positiva che ci tenga il riparo da tutto questo insomma grazie applausi 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 non invito se c'è qualche commento qualche intervento domande per presentare ma io ho soltanto una ripresione perché ho un'attualizzazione che volevo fare che riguarda un po' che sono per certi aspetti le immagini che ci ha fatto vedere Livio semplicemente insomma è un rimarcare per chi non ha avuto la fortuna diciamo di esserci a Sarajevo delle situazioni insomma c'è ancora il Viale dei Cecchini a Sarajevo che si chiama Viale dei Cecchini e questo diciamo è un aspetto alquanto inquietante e c'era poi un episodio insomma che mi è rimasto molto impresso quando sono stato lì che ricordavo proprio il momento in cui io e Chico parlavamo insomma della necessità diciamo di intercultura e di scambi soprattutto tra i giovani diciamo di questi di questi posti che insomma questo ragazzo sostanzialmente che a Sarajevo è un beccato per caso gestiva un negozio di skaters con della roba che gli arrivava assolutamente diciamo chiaramente dall'America però era e non stiamo non vado indietro cioè era il 2008 e era esattamente diciamo bloccato a Sarajevo perché non hanno possibilità di avere un passaporto per venire da questo lato e anche in Bosnia si sta parlando così come tutti i Balcani di Europa un ragazzo bosniaco per avere un visto per venire qua deve andare in ambasciata italiana con una ricevuta di una banca che attesta che lui ha almeno 5.000 euro cioè io tipo oggi a Bari non venivo cioè è un'assurdità è un'assurdità perché tu non lo chiederesti mai a un ragazzo di Torino di dimostrare che non vuole restare a Londra e che deve tornare a casa è una violazione dei diritti alla mobilità che è uno dei diritti umani scusa ma ci teneva a dire perché 5.000 euro per un paese per uno stipendio medio e 300 euro di questo stiamo parlando erano giusto questi due momenti e riflessioni che mi hanno riportato alla mente non solo le immagini che ho visto oggi pomeriggio ma anche i dialoghi che abbiamo fatto oggi a tavola che spero posso invitarvi ad andare a visitare Sarajevo sostanzialmente anche quello non è male quello o no Walter va bene non so se c'è qualche in caso contrario ciao no vabbè io a nome chiaramente diciamo dell'associazione prendo l'onere e il piacere insomma di ringraziarvi entrambi non solo per quello che ci avete raccontato e ci avete mostrato sicuramente ma anche per l'affezione a chi si occupa di questo tema che avete mostrato nel vostro anche modo di relazionare di cose a noi personalmente diciamo perché abbiamo avuto la fortuna diciamo di ospitarvi e di sentirvi direttamente ed è un personalmente credo insomma di condividere lo spirito anche con Carmine e con Walter è un onore e un piacere diciamo enorme che ci dà una grande carica il vedere che qualcuno insomma di ben ben più addentro di noi cioè ben con più molti con molti più sacrifici ci sono stati fatti ha voluto dedicarsi a questo perché sicuramente diciamo è uno stimolo per noi a continuare a perseguire l'idea con la quale tutto questo è venuto fuori quindi grazie particolare dall'associazione credo per questo oltre che per la vostra presenza presenza qui quindi detto questo possiamo chiudere in bellezza ciao a tutti grazie